Noi siamo l'Eloia! Chi importa? L'Eloio! Rui! Rui! Prova 23! Gianluca! Rai! Rui! Prova 24! Marsha! Rui! 1-3! Roger! Rui! Rui! Prova 59! Nicola! Rai! Rui! Prova 59! Eleonardo! Rui! Prova 8! Le mania! Rai! Nel 92! Stai qua! Rai! Prova 9! Temi! Prova 22! Nicola! Il capitano! Nel 7! Lorenzo! Rai! Temi! La disposizione è il numero 11! Temi! icted立'